Sono Francesco Lanza, sono direttore dell'unità operativa di ematologia dell'ospedale di Cremona. Per anemia si intende una riduzione patologica del valore di emoglobina nel sangue. È una condizione molto frequente che colpisce il 5% delle persone. Pallore, tachicardia, sensazioni di stanchezza, difficoltà respiratorie e nausea rappresentano i sintomi principali dell'anemia. Le cause sono molteplici. Perdi tematiche dal tratto gastroenterico o nelle donne in età fertile dovute a mestruazioni abbondanti. Le anemie possono anche essere di natura congenita e familiare oppure dipendere da malattie del sangue e del midollo osseo. La carenza di ferro, di vitamina B12 e folati determinano l'insorgere dell'anemia. Per una terapia efficace è indispensabile identificare correttamente la causa. Ecco perché il medico ematologo è fondamentale. Grazie a tutti i nostri spettatori.